Questo è un pugno veramente sullo stomaco, non so cosa succederà, perché la gente bisogna che tocchi il cuore, non solo la mente, bisogna che la gente capisca che viviamo in questa realtà. E in effetti sta facendo discutere il presepe allestito all'interno della chiesa di Santissima Trinità da un gruppo di giovani della parrocchia. Nella capanna, al posto di Maria e Giuseppe, una famiglia come tante. Al posto dell'immagine sacra tradizionale, un angolo di strada, carte a terra, pentole vecchie, bottiglie rotte, ritagli di giornali e al centro, sdraiato, un senza tetto. Il barbone è quella persona che sta in disparte all'angolo, no, che ha bisogno. E che noi, soprattutto il povero, non è quello che chiede la carità, ma è quello nascosto. È quella famiglia che non chiede niente, però bisogna che tu vai in cerca. Una scena forte, un messaggio provocatorio che ovviamente divide la gente. Stamattina sono entrato in qualche locale, no, ho detto ma come mai questo presepe, ma com'è possibile? E alcune mi dicono ma bellissimo, sappiamo che c'è quello pro e quello contro. Ma forse è proprio questo l'obiettivo del presepe che ha avuto il bene placido del parroco Don Valerio. Far discutere e far riflettere sul vero significato di una festa sacra come il Natale.